Pareggio esterno per il Brindisi sul campo del Nardò, 2 a 0 nel primo tempo per la formazione brindisina, 2 pari, il risultato finale al termine dei 6 minuti di recupero. Il Brindisi approccia bene alla gara, al tredicesimo trova il vantaggio, punizione dalla destra ribattuta sotto misura e d'ancora a sbloccare il risultato, insiste la formazione brindisina al ventisettesimo, Turea al centro per Sorrentino, sfera deviata e parata dal numero 1 locale alla mezz'ora, perfetto contropiede della formazione ospite, Marino serve ancora che trova il diagonale vincente che vale il 2 a 0. Nel finale prova una reazione il Nardò, al trentasettesimo, gol annullato per posizione di fuorigioco di un calciatore neretino, proteste ancora della formazione di casa al trentanovesimo per la munizione per simulazione di Natalucci. Nella ripresa è subito in avanti il Nardò che riapre le sorti dell'incontro all'undicesimo, inserimento centrale da parte di Camara che sigla il 2 a 1. È proprio lo stesso attaccante Neretino che ha la clamorosa occasione del pareggio al diciannovesimo ma calcia sul fondo. Al ventitresimo si rivede in avanti il Brindisi, ancora dalla sinistra, mette la sfera al centro, bocca d'amo di testa, manda di poco sul fondo, passa solo un minuto e ancora in avanti il Nardò con Spagnolo che entra in area ma la traversa, gli nega la gioia del gol. Insiste ancora il Nardò con Calemme dal limite, devia la Cirignola che salva la propria porta. Al quarantaduesimo Brindisi ancora in avanti, pressing alto di Dancora che anticipa Montagolo, Masocco prova poi un pallonetto a porta vuota con la sfera che termina sul fondo. Al novantesimo poi in mischia, Stranieri trova la rete del 2 a 2 e al cinquantunesimo Calemme cerca addirittura il sorpasso. E' pronto la Cirignola alla deviazione e a salvare il risultato col Brindisi che porta a casa almeno un punto dal campo del Nardò.